Deposit Solutions è pioniere in ambito di depositi, è la piattaforma open banking che permette di rivoluzionare la catena del valore tanto per le banche quanto per i risparmiatori. Per le banche che sono interessate a effettuare raccolta o diversificarla in ambito europeo permette di utilizzare un servizio plug and play per accedere a dei punti che noi chiamiamo point of sales di accesso a una platea di risparmiatori che stimiamo in oltre 30 milioni. Dall'altro lato banche interessate ad ampliare la propria offerta in ambito di depositi possono per la prima volta offrire depositi di banche terze tramite la stessa relazione bancaria, quindi mantenendo una relazione diretta con i loro risparmiatori. L'impatto di questa innovazione è che i risparmiatori per la prima volta utilizzano i depositi come una vera e propria asset class, quindi attraverso la relazione esistente presso la loro banca o il loro point of sale non bancario possono effettuare portafogli di depositi presso banche di tutta l'Unione Europea senza dover stabilire un contatto diretto con nessuna di queste. L'estate è stato un periodo particolarmente fortunato, ha visto il lancio di una banca italiana, banca a sistema con cui abbiamo stretto una nuova partnership, ha visto un nuovo round di finanziamento per 100 milioni di dollari che ha portato la valutazione della società a mezzo miliardo di dollari, vedendo anche l'ingresso di due nuovi investitori come Vitruvian Partners e Cinevic che in passato hanno investito in società come Zalando, Betterment o Stresscanner e che ci danno ulteriore spinta per il roll out a livello internazionale della nostra soluzione. Un'altra notizia particolarmente interessante è che diverse banche che hanno dato la nostra soluzione, quindi che si collegano alla nostra piattaforma per poter effettuare e diversificare la loro raccolta, iniziano a menzionarci nel loro report e presentazione agli analisti ed una in particolare, HSH Nord Bank, ci ha menzionato nella loro semestrale, indicando come attraverso Deposit Solutions abbiamo raccolto 2,9 miliardi di Euro di depositi in soli 10 mesi. Il FinTech District è un'esperienza, un'iniziativa eccezionale, ci sarebbero tante cose di cui beneficiare, noi personalmente ne vediamo due, una è la maggiore visibilità e rilevanza nelle relazioni istituzionali e l'altra, come stiamo già vedendo, è la creazione e definizione di nuovi servizi dedicati ai FinTech. Deposit Solutions nasce già come una società di forte impronta internazionale perché opera in un contesto regolamentare europeo armonizzato, ha sede ad Hamburgo ma è già presente in 16 paesi europei con delle rappresentanze locali e connette già 70 banche di diverso tipo. L'idea, anche attraverso il round di finanziamento appena concluso, è proprio quello di accelerare ulteriormente questa espansione a livello europeo e rafforzarla in primis anche in Italia. Grazie a tutti.